Mafia, omicidio sparatore in carcere, mandante a Tanasio e autore dell'omicidio De Carolis. I serecusani Alessio Tanasio, 52 anni, il mandante, e Luciano De Carolis, 48 anni, il killer, lo scorso 20 ottobre sono stati condannati alla pena di 30 anni di reclusione ciascuno per l'omicidio di Angelo Sparatore, aggravato dalla premeditazione e dall'avere commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa Bottaro-Tanasio. I pubblici ministeri Alessandro Larosa e Alessandro Sorrentino della Direzione Estetuale Antimafia della Procura di Catania, coordinato dal procuratore aggiunto Ignazio Fonso, hanno chiesto di ottenuto dal GIP del Tribunale di Catania Carla Aurora Valenti la misura cautelare nei confronti di Atanasio e detenuto per altra causa nella casa circondareale di Nuoro e di De Carolis, che si trovava in stato di libertà. Per loro gli agenti della squadra mobile di Siracusa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo i magistrati della DDA di Catania, Atanasio, indicato come il boss della cosca siracusana che porta il suo nome, De Carolis è un esponente dello stesso clan. La vicenda risale al 4 maggio del 2001. Uno sparatore venne ucciso con sei colpi di pistola a Calibrio 38 in via Gaetano Barresi, al nord di Siracusa. Un sparatore, che fu avvicinato da due killer mentre si stava recando al lavoro, ricevete anche il colpo di grazia alla testa. De Carolis è accusato di aver sparato, mentre Atanasio sarebbe il mandante dell'omicidio ordinato per punire il collaboratore di giustizia a concetto sparatore, fratello della vittima. È stato Salvatore Lombardo, detto Puggesino, ex componente del clan mafioso Bottara Atanasio, ad autoaccusarsi dell'omicidio per cui è stato condannato in appello, rivelando di averlo commesso insieme a De Carolis su ordine di Alessio Atanasio.